Ciao, io sono Dr.Kat e benvenuti in questo nuovo video. Questo video è un po' traggio con te e altri. Abbiamo giocato insieme a Pogodoggo a Dors, una modalità di Roblox un po' in horror. E... niente, prima di lasciarvi il video domani, giovedì alle 16, farò la mia prima live insieme a Pogodoggo. E niente, vi invito a seguirmi su Instagram, Discord, TikTok e Twitch. E questo è tutto, ciao! Ah, mi ha schiacciato la porta! Ah! Io! Oh mio Dio, ma in prima persona! Ma che figata! Non lo sapevo! Adesso ti vedo molto più vicino! E mi stai mettendo ansia! Non solo tu! Anche il gatto banana, vi prego! No, no, smettila! Smettila! No, 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 sono claustrofobico! Per favore, fatemi uscire! Ho paura dei gatti! E io dei cani! Su! Oddio, Cat! Non hai più le gambe, sono diventate piccolissime! Cominci a farmi paura? Smettila! Ok! Qui abbiamo la chiave della prima stanza, però se la si leggia al contrario, è mille! Quindi abbiamo già finito il gioco? Abbo? Abbo? Io ti odio! Basta! Mostri! Qualunque cosa ci sia qui dentro, uccidetelo! Abbo? Ma sei malato! Mi hai fatto caccare sotto! Ma che c'è in quest'armadio? Ma... Eh... Bu! Dai! Dammi guardare così! Ma... Ma c'era... Ma c'era... Che cosa c'era? Non c'è niente! C'era un demonio! Non è vero! Smettila di assumere troppe banane! Ok? No! Eh? Ma si è partita da sola? È stato così facile? Già siamo arrivati alla stanza numero tre? Ce l'abbiamo praticamente già finito! Ah! C'è il demonio! Vedi? Non c'è nessuno negli armadi! Sono... È colpa di tutte le banane che ti mangi! Ti fanno avere le allucinazioni! Probabile! Eh, infatti! Ma siamo già alla stanza numero sei! Ma sto gioco è troppo semplice! E non ci sono mostri! Vedi? Qui si apre direttamente la... Num... Numero... Se... Eh... Però posso dire... Oh! Allontanati! Scusa! Mi vado a nascondere! Basta! Ma io vedo il tuo muso fuori dall'armadio! Eh, io vedo il tuo! E mi stai comunque mettendo ansia! No! 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 Eh... Eh... Io prima stavo scherzando! Qui inizia ad essere sempre più buio! Ehi là... No! No 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 no! Ehi là... C'è nessuno! Dimmi che accende la luce! Non accende la luce! Quindi... Ho paura! Ehi là... No 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 no! Si è aperta pure un'altra stanza! Ma quanta roba c'è da fare! Ma che ansia! Oh! Cosa? Oh! Un accendino! Poggo! Perché non ce l'ho? Ah! No! No Poggo no! Quando entri diventa tutto buio! Ma non ce l'ho accendino! Questa è una discriminazione! Si sta liumillando la morta! No 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 no! Aspetta aspetta! Senti fantasmacoso? Stai buono! Sto parlando! A che ti hanno dato l'accendino per farsi luce! A me no! Non ho nulla! Vai avanti tu! Hai l'accendino! Eeeh... Salve Harry Potter! Tutto... Bebe... Oh! Oh! Ah! Oh cosa? Poggo avrei mangiato un'altra banana! Mamma mia! Non l'hai visto? C'era una specie di Venom con i denti che mi è saltato addosso! Sì sì interessante! E si chiude nell'armadio! Fai veramente schifo! Ma questo se... Poggo! 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 Cat! A quanto pare dobbiamo scappare da quella bestia di Satana che ci stava inseguendo! E tecnicamente ci sono degli indizi sparsi nelle stanze che ti indicano il suo arrivo! Io però non ne ho trovato manco uno! Stai lontano! Neanche io ne ho capito uno! Perfetto! Prego Poggo! Apri l'armadio! Ma era questo l'armadio del demon eh? Sì sì! Apri apri! Ma non c'è niente! Eh! Eh! Cat! Ma le stanze cambiano ogni volta che riprovi! Ma sta roba è fuori di testa! Mi nascondo nell'armadio! Basta! Non esco più da qui! Poggo! Sta arrivando! No! No! Entra! Veloce! No 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 no! Ma non è possibile! Ma come si fa questa cosa? Poggo sono sopravvissuto! No Poggo! A quanto pare quando le luci iniziano a lampeggiare vuol dire che sta arrivando! Ecco! Io l'ho capito troppo tardi! Perché sono esploso! Vabbè! Quasi quasi Poggo! Io mi nascondo qui per sempre! Ciao! Cat non vale nascondersi negli armadi! Io ci sono morto! Me ne rimangono nell'armadio! Ah! Ma? Ma sei morto? Sì! Ma... Non lo capisco! Ovviamente! Visto che non ne sapevamo nulla! Se non riusciamo a finirlo in questo episodio! Scriveteci qui sotto nei commenti! Se ne vorreste vedere un altro! E adesso ti do fuoco! Scriveteci qui sotto nei commenti! Scriveteci qui sotto nei commenti! Aaaaaah! What the fuck? Poggo! Ah! Ma me l'ho spaventato! Sì! Ma c'ho uno di vita! Mi sono spaccato tutto! Eh! Pure io! Cos'è? What the fuck? Ma è la stanza numero... Eh? Cinqua... Eh... No! No! Oh! Oh no! Di nuovo no! Ti prego! No! Ti prego no! Dobbiamo scappare da sta bestia! Ah! 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 Ce l'ho qua! Ce l'ho qua! Ce l'ho qua! Sono chiuso nell'armadio! Poggo! Poggo ma i libri c'hanno dei codici! Ah! Ma no! Non ho capito niente di quello che dovevo fare! No! La testa di Poggo! Oh! Un altro libro! Uno! Che significa? No! Vai 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 vai! Esce! Esce! Come? Che senso? Eh? Eh non lo so! Non l'ho capito manco io! Ok! No! Mi sa che può uscire! Ora! Ecco! Quindi! No no no! Come si esce? No! Oh no! Oh no! C'è un'armadio a destra! Sera gente! Arrivederci! Uno! E per questo come faccio a capire in ordine? Non c'è niente! Per 3, 1, 7! Sì ma ne mancano altri due! Uno, sette, tre, quattro, nove! Ok! Uno, sette, tre, quattro, nove! No! Ma perché? Ha senso! Aspetta! No! No! Ma come faccio? Beh io mi sa che... AAAAAAA! Ecco! Risolto! Sì! Rijalisco! Buon appetito!